e bello di playerini, ben tornati che questo è un video oggi è un video diverso dal solito perchè andrò a raccontarvi una mia storia ossia il mio primo limone ossia un bacio con la lingua e niente eeehm praticamente ero a Milano cioè stavo andando a Milano che era estate e niente volevo andare con una mia amica a Milano e stavo andate a Milano quindi niente e se siamo arrivati inizialmente eravamo un po' timidi perchè comunque uscire da soli a Milano non è che sia proprio la cosa più bellissima del mondo perchè fra l'altro era la mia frate, ossia la persona che mi piaceva in quel momento quindi capite la vergogna che avevo anche perchè passeggiare per Milano con tutta sta gente lei che parla, tu che non capisci una minchia già sei stupido di tuo e c'è come l'ore capite che è difficile la roba però niente allora praticamente a un certo punto lei aveva fame e gli faccio vabbè andiamo a mangiare al McDonald's e lei mi fa si però non c'ho soldi cazzi vari mi dispiace non posso poi ringrazio queste cagate idee da donna e alla fine l'ho offerto io praticamente ho deciso di fare una cosa un po' più romantica e quindi l'ho voluto mangiare davanti al Duomo e gli chiedo vuoi mangiarlo davanti al Duomo così seduti e lei mi fa si dai va bene ci sta e niente eravamo lì davanti al Duomo abbiamo ingerito al McDonald's abbiamo parlato un po' comunque del nostro futuro cosa voleva fare un po' della sua vita in generale e niente alla fine l'ho scoperto che addirittura comunque era interessante la sua vita e niente e quindi mi stava tanto a facermi di più e verso le 4 che avevamo passeggiato un po' per negozio abbiamo fatto un po' shopping avevamo ancora fame quindi siamo andati comunque da Starbucks a fare merenda abbiamo preso lei ha voluto tipo un cappuccio ah no comunque è successo quest'estate noi abbiamo fatto tempo fa lei ha voluto prendere un cappuccio tipo io ho preso un caffè latte e niente l'abbiamo bevuto mentre andavamo nei negozi e si è fatto tardi erano più o meno le 9 eravamo un po' annoiati quindi cosa faccio? e gli vedo se voleva venire a casa a dormire da me no? e lei mi fa si dai ci stavo c'è un po' un pigiama party così ci divertiamo alla fine regà non abbiamo dormito e abbiamo passato praticamente tutta la notte a limonare e tipo abbiamo goduto come dei porchi e niente questa era la sera del mio primo limone è altamente cagare però è così spero che vi sia un minimo interessata poi non dico cosa è successo la notte perché sono solo cose piccoline e non è che sono cose grandi però onesto ah e fra l'altro sua mamma non sapeva che lei era venuta a dormire perché non c'era il telefono perché era scarico quindi siamo arrivati a casa di mia mamma io che sono sbottata a dormire mi ha detto va bene e quindi mia mamma ha chiamato sua mamma per chiederglielo lei inizialmente non ci stava poi ho detto che ero gay e niente alla fine c'è stata quindi ragazzi volete invitare una donna a casa vostra a dormire dite che siete gay e vi giuro che funziona grazie mille Lore e niente questa era la storia ho fatto un po' schifo Lore mi sta videochiamando aspetto che vado a cittare la chiamata madonna che cazzo stai facendo e niente comunque alla fine va bene sono state cose piccoline le note abbiamo solo cioè no abbiamo guardato un film su Netflix perché a lei piaceva Netflix cioè l'avevo scoperto lì al Duomo e quindi gli faccio vuoi guardare Netflix che ce l'ho sia sul telefono che sul computer che sulla tele e bene quindi abbiamo guardato i cosunetti ci sono state un po' di carezze in parti strane però niente dai questa è la storia del mio primo limone bella rega e grazie per aver guardato il video ciao ciao